Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come non ingrassare in bulk. Vi son piaciuto, questa era voluta, era voluta tanto. Allora, sapete come a me generalmente non piace parlare di lean bulk? Non piace perché quando affrontiamo una fase di massa, il nostro scopo è quello di prendere quanta più massa possibile. Quindi pensare a non ingrassare come priorità per prendere massa non è un buon modo di approcciarsi all'argomento. Ora, non fraintendetemi, non bisogna ingrassare tanto in bulk e questo è il motivo per cui sto facendo questo video. Il discorso è che il concetto di non ingrassare non deve essere visto come un voglio rimanere tirato, quindi da un punto di vista estetico perché di base di bodybuilding è uno sport in cui la condizione si vede sul palco e tutto quello che facciamo deve essere funzionale a salire in top condition sul palco, ma deve essere visto in modo da mantenere un buon anabolismo muscolare. Immaginate che c'è sempre una rivalità tra il tessuto adiposo e quello muscolare su chi fondamentalmente si ciuccia il surplus energetico. Più noi ingrassiamo, più in questa rivalità, in questa guerra, prevale il tessuto adiposo. Quindi il tessuto muscolare per un semplice discorso di rilascio di citochine pro-infiammatorie perché il tessuto adiposo è un tessuto attivo che rilascia elementi pro-infiammatori per un discorso di perdita di sensibilità insulinica, flessibilità metabolica, eccetera, il tessuto muscolare non riesce più ad essere anabolico, non riesce più a sfruttare banalmente nutrienti e quindi a diventare più grosso, banalmente. Per cui il concetto di non ingrassare è funzionale a questo e voglio che questo video venga interpretato in questo senso. Allora cerchiamo di capire come facciamo a non ingrassare e buttiamo un po' di idee che mi sono scritto. L'ho scritto alla rinfusa quindi non andrà in un ordine particolare, sono totalmente fatto prima della competizione della gara, quindi sto un po' in palla, perdonatemela, però il concetto arriverà. Quindi, primo punto in assoluto, che è una cosa che ho detto spesso, in bulk l'alimentazione è funzionale all'allenamento, quindi aumentate di calorie non per aumentare di peso, ma perché è un qualcosa che è richiesto dall'allenamento. L'allenamento è il driver per l'ipertrofia, è quello che crea ipertrofia. Immaginate che l'allenamento è come una macchina, ok? È la macchina che vi porta da Roma a Milano. Il discorso è che dovete avere un'autostrada, però l'autostrada deve essere creata in funzione della macchina, delle dimensioni della macchina, della necessità della macchina, quindi logicamente se io vado ad aumentare le calorie semplicemente per aumentarle, inizio ad ingrassare. Mentre il concetto è quello di aumentare le calorie quando l'allenamento mi richiede di aumentare le calorie e quindi gli do tutti i substrati affinché ci sia una performance e una risposta adattativa. Ora, come fare a capirlo? Banalmente gli indici sono due. Da una parte il peso, il peso corporeo in stallo, quindi se il peso corporeo in stallo per tanto tempo, di nuovo non devo aumentare per aumentare il peso, però un indice che non stanno avvenendo tanti processi di adattamento, anche banalmente processi di sovracompensazione a livello di glicogeno muscolare, eccetera. Quindi sicuramente il peso deve assistere ad un progressivo aumento nel tempo. Non deve essere tutte le settimane, all'inizio magari sì, però successivamente può esserci uno stallo di due, tre, quattro settimane, però dopo questa tempistica, dopo questo stallo, allora è il caso, salvo situazioni di minicut, eccetera, di cui abbiamo già parlato, è il caso di aumentare le calorie. E il secondo, soprattutto molto più importante, è la performance. Ora, non è che dobbiamo aspettare uno stallo di performance, però diciamo che se la performance migliora, automaticamente c'è una maggiore richiesta energetica, perché facciamo più lavoro, l'intensità è maggiore, l'epoca è maggiore, e quindi man mano che vedo che la performance migliora in sala, vado a dare quel filo di calorie, in particolare di carboidrati in più, necessari per mantenere questo miglioramento, per mantenere la risposta adattativa a questo miglioramento, e quindi deve essere un po' un processo lento. Performance che sale gradualmente, calorie che vengono date un filo pian piano gradualmente, e quando la performance inizia a stallare un po', aspetto, mi fermo, se vedo che stalla, 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 anche là ci sono molti segnali per capire che stalla per un discorso di maggiore necessità energetica, e questo si riesce a capire con tanta intimità di allenamento, però se la sensibilità insulinica è buona, se la BF non è alta e la performance stalla, il peso stalla, allora è il caso di dare un po' più di calorie, quindi banalmente il peso e la performance sono gli indici che ci fanno capire che bisogna aumentare un po' le calorie in maniera funzionale all'allenamento. Secondo punto, puntate sui carboidrati, non fate quei bulk in cui si punta tanto sui grassi, perché, sempre discorso relativo a prima, sono i carboidrati il substrato necessario per creare questa richiesta d'adattamento, da una parte per supportare la richiesta d'adattamento energetico, ma soprattutto il substrato necessario per mantenere e migliorare la performance, perché lavoriamo in anaerobiosi, quindi i grassi non possono essere utilizzati come substrato. La richiesta indispensabile di grassi essenziali c'è, è presente, però è veramente veramente bassa, quindi non ha senso portarli troppo in alto. Abbiamo già parlato di CG ratio, di rapporto carboidrati grassi, e quindi rimando a quei video, però cercate di puntare soprattutto sui carboidrati. Collegato a questo, il discorso del timing, quindi scegliere un buon timing dei nutrienti, che vale a dire banalmente cercare di concentrare i carboidrati nella peri-workout nutrition, quindi nel pre-, intra- e post-workout. Parte anche nel post-post-workout, perché? Perché è il momento in cui vengono al meglio utilizzati dal nostro corpo, il nostro corpo li richiede di più, quindi avere un buon pre-workout, una buona quota di carboidrati, un intra-workout abbondante di 0,5 fino a 1 grammo di carboidrati per chilo di peso corporeo, quindi se pesate 80 kg da 40 fino a 80 grammi di carboidrati sotto forma di ciclo d'estrine, il prodotto in questo momento migliore sul mercato, ramificate, ciclo d'estrine altamente ramificate, e poi da là, post-workout, pasto altrettanto abbondante di carboidrati, è anche un buon pasto glucidico nel post-post-workout, quindi il pasto ancora dopo, in cui abbiamo comunque una buona ricettività a livello dei glute 4 in membrana, a livello muscolare. In questo modo cerchiamo di indirizzarli il più possibile a livello muscolare a scapito del tessuto adiposo. I grassi, tendenzialmente lontano dall'allenamento. Ora, per quanto riguarda il timing di usaggio, ho fatto due video interessanti su rhinonation.it, il nostro portale, che non stanno in realtà nella sezione Academy, sono dei video che stanno nella sezione video normale, li potete trovare in sezione alimentazione, su come impostare macros nei giorni on e nei giorni off. Quindi in questo caso andateci a dare un occhio, perché faccio un timing proprio preciso, riferito a tutti i diversi pasti della giornata, come dividere i carboidrati. E nei nostri programmi, quindi Kratos, Vulcano, ADE, eccetera, potete trovare una divisione del genere anche là. Ora, l'intensità in sala. Cercate di lavorare in maniera intensa. Di nuovo, le calorie sono funzionali all'allenamento. L'allenamento, quello che crea ipertrofia, che crea e attiva questi processi di adattamento, è in primis l'intensità. Abbiamo fatto diversi video in merito, però sicuramente uno dei problemi delle persone che tendono a ingrassare tanto in fasi di bulk è che non si allenano intensamente. Magari fanno tanto junk volume, tanto lavoro in generale, però questo tende a compromettere il recupero, quindi impedire che comunque dei processi di adattamento ci siano, la performance non migliora, quindi non c'è quella reale richiesta energetica e semplicemente si muovono in sala. Quindi cercate innanzitutto di creare molta intensità in sala, allenatevi bene. E questo è veramente, veramente il grosso, ragazzi. Quando ci si allena veramente bene in sala e il volume è il massimo volume recuperabile, quindi c'è anche un buon volume di lavoro, è veramente difficile ingrassare. Dopo anni di esperienza, dopo anni di allenamento inizia a diventare veramente, veramente difficile ingrassare semplicemente per il fatto che la mole energetica richiesta è tanta e anche se ci mettessimo a mangiare in intuitive eating difficilmente riusciremo a superarla o almeno a superarla e tanto. Quindi da questo punto di vista allenatevi bene. Ora, altro punto, il NEAT, quindi il numero di passi durante la giornata. Ecco, è un tool interessante perché il NEAT, che in realtà non sono i passi di per sé, però possiamo monitorare con un contapassi, è un fattore interessante perché ci dà un'idea di quanto spendiamo. A costo zero in qualche modo perché non impatta troppo sul recupero, impatta sul tempo sicuramente, però non impatta sul recupero. Quindi persone che si muovono di più hanno non tanto un discorso di ingrassano meno, ingrassano meno perché utilizzano al meglio quelli che sono nutrienti, hanno una miglior sensibilità insulinica, hanno una miglior digestione, tanti fattori. Quindi da questo punto di vista cercate di muovervi comunque il bulk. Il NEAT potete misurarlo, potete anche non misurarlo, logicamente non voglio che entrate in fissa, però cercate generalmente di muovervi. Se volete avere una misura, insomma è un orologio, è abbastanza comodo, prendete il ritmo, avete dei rituals, avete una certa routine che voi prendete, sapete più o meno quanto andate a camminare al giorno e poi non c'è bisogno che ogni giorno andate a controllare. Però generalmente stare sui 10.000 passi è un buon indice, è un buon punto di partenza. Ora, per builder che sono molto pesanti, per builder che sono enhanced soprattutto, io suggerisco di stare un filo più bassi, in realtà, e puntare un po' di più, come vedremo tra un attimo, sul cardio, semplicemente per non impattare troppo sul recupero, perché comunque il NEAT impatta un minimo sul recupero, e cercare invece di avere questa mole di dispendio con il cardio, che in questo caso può essere gestito in maniera funzionale. Quindi, passando a parlare di cardio, il discorso è un po' inverso, nel senso che normalmente io quello che suggerisco è di tenere un minimo cardio, liss, ma non esagerare, per cercare di massimizzare quelli che sono i processi ipertrofici. Quindi, ho fatto diversi video riguardo al cardio, rimando a quei video, non voglio creare richieste di adattamento troppo diverse dall'allenamento ipertrofico. Quindi, un paio di sessioni a 30 minuti nel corso della settimana, quindi un 60 minuti di liss, quindi steady state sui 140 bpm, 130-140 bpm, insomma, è sicuramente una buona soluzione, ma nel caso invece dei builder enhanced e particolarmente pesanti, ci sono dei fattori che entrano in gioco, ossia il controllo della pressione ematica, il controllo dell'ematocrito, che vengono incentivati molto con il cardio, vengono a migliorarsi molto con il cardio. Quindi, in questo caso, andare a utilizzare un cardio un po' più aggressivo, sempre liss, portando il battito cardiaco così, 130-140 bpm per un totale di 100-120 minuti a settimana, cercando di impostarlo innanzitutto su macchinari diversi, cercando di impostarlo in maniera che sia funzionale al recupero, quindi deve essere un'attività che porta il distretto in pump, ma non accumula troppo lattato, quindi per esempio io lo faccio sulla bike e lo divido in blocchi da 15 minuti, perché è il tempo che mi serve per mantenere questa soglia di 130-140 bpm, ma la cosa in più che mi fa è che mi crea pompaggio sulle gambe senza accumulare lattato, quindi in realtà migliora il recupero generalmente sulle gambe, non lo faccio la sera prima di aver fatto gambe, ma lo faccio la sera dopo aver fatto gambe, per esempio, perché l'ho appena allenata, quindi ci butto un altro po' di sangue e questo riduce i DOMS e il giorno dopo che normalmente ce l'ho come giorno di rest lo faccio in due sessioni, quindi subito dopo la sessione gambe lo vado ad utilizzare, perché in questo modo facilita e migliora il recupero, ma non lo vado ad utilizzare prima perché voglio che arrivino fresche prima della sessione. E mi sono generalmente trovato bene, logicamente perché in fase bulk le calorie sono molto molto alte, quindi c'è un'ottima capacità di recupero, non stiamo impattando appunto su una richiesta specifica, nel senso che di base creiamo semplicemente pump. Quindi un filo più di cardio e un filo meno di NEAT come detto che possiamo tenere sugli 8000 passi al giorno, sempre per non impattare troppo sul recupero anche 6000 al giorno, quindi può essere anche semplicemente basso. Poi se avete i cani logicamente diventa un po' più complicato perché dovete portare le spasso eccetera, però questo è. Ora, ultimo due consigli, il primo è il mini cut, valutate inserire il mini cut, ho fatto diversi video, sempre il discorso di antagonismo tra tessuto muscolare e tessuto adiposo, ossia se io esagero troppo nella mia fase di bulk, quindi spingo un po' troppo nella mia fase di bulk, ingrasso un po' troppo, allora a un certo punto divento poco anabolico da un punto di vista muscolare e tutto il surplus inizia a ciucciarselo il tessuto adiposo. Quindi per questo quando vedo che la BF è un po' troppo alta, la sensibilità insulinica è un po' troppo compromessa, allora inserisco una fase di mini cut, ristabilisco tutto, reset completo e poi riparto. E sempre riguardo alla sensibilità insulinica, ultimo consiglio, ma già con tutti questi consigli vi assicuro che la sensibilità insulinica sarà mantenuta e preservata al meglio durante la fase di bulk, però inserite un GDA, io personalmente utilizzo l'Insulno Minerre che è un blend completo perché ricordo che le diverse molecole di GDA che sono delle molecole che sostanzialmente vanno ad attivare i GLUT4, quindi favoriscono un miglioramento, un mantenimento della sensibilità insulinica e favoriscono la gestione dei carboidrati a livello muscolare a scavito del tessuto di poso, ma lo fanno secondo diversi pathways, secondo diverse strade diverse, quindi l'Insulno Minerre è un ottimo prodotto perché contiene diverse molecole, quindi l'ala, il cromo, la cannella, la berberina, eccetera, che lavorano in maniera sinergica, quindi ho una potenzialità di intervento, una capacità di intervento veramente completa sul discorso del mantenimento della sensibilità insulinica. Quello che faccio, inserisco due capsule nel mio pasto pre-workout per cercare di veicolare subito i carboidrati al meglio e due capsule non nel post-workout perché là già i GLUT4 sono molto recettivi, ma nel post-post-workout che è il mio sostanzialmente secondo pasto più glucidico della giornata normalmente. Quindi due e due e questo mi aiuta logicamente a mantenere questa sensibilità insulinica e cercare di veicolare tutto il surplus a livello muscolare a scapito di quello adiposo. Ragazzi, questo è tutto, qualsiasi domanda come al solito qua sotto sarò ben lieto di rispondere